Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Se siete dei nuovi iscritti o se siete capitati qui per caso sul mio canale, mi presento, mi chiamo Amber, sono una make-up artist e qua nel mio canale mi piace parlare a dismisura di make-up, benessere e proclamare il self-love. Oggi mi vedete vestita di rosso non a caso perché siamo a tema Natale in questo video, infatti voglio darvi i miei consigli, 10 consigli per i regali di Natale. Sono sicura che molti di voi avranno già approfittato dei saldi al Black Friday o al Cyber Monday per fare i regali di Natale, ma sono anche sicura che tra di voi c'è sempre quella persona che ricorre ai regali last minute. Quindi voglio darvi quelli che sono i miei consigli, ho pensato a idee molto diverse per tutte le tasche ma da tale da avere una lista molto variegata. Prima di iniziare però voglio dirvi se ancora non vi siete iscritti al mio canale YouTube, il modo migliore per supportarmi è cliccando qui sotto sul bottone iscriviti e lasciando un bel like sotto questo video. Io ovviamente ve ne sarei davvero tanto grata e se avete il piacere di farlo, vi ringrazio. Bene, partiamo subito con queste 10 idee al regalo partendo dalla prima, cuffie wireless. Ho pensato di proporvi queste idee al regalo perché nel mio caso mi hanno davvero davvero migliorato la routine quotidiana. Infatti per il mio compleanno quest'estate il mio ragazzo mi ha regalato un paio di hairpods che io collego al mio iPhone e le tengo su davvero sempre. Quando sto a casa e posso ascoltarmi i miei podcast, ascoltare la musica e sono secondo me è un regalo molto utile per tutti, per chi guida e dovendo stare al volante ha bisogno, non utilizziamo il cellulare alla guida, di un comando vocale o comunque di un supporto per poter fare le chiamate, per chi è uno sportivo per poter andare in sala pesi o se fa palestra, se va a correre, magari palestra in questo momento o no, ma sicuramente le ritorneranno utili e insomma per chi come me si annoia durante le faccende domestiche, quindi mi metto le mie cuffiette, mi ascolto i miei podcast, ascolto la musica e mentre faccio quelle cose noiosissime di casa mi faccio il mio letto, mi faccio i miei piatti e nel frattempo ho modo di rendere il tutto molto più piacevole. Ce ne sono di tantissime fasce di prezzo compatibili con iOS, compatibili con Android, su Amazon ad esempio nel pieno, se cercate cuffie wireless davvero avete una scelta molto vasta, un po' per tutte le tasche, dipende da quanto volete spendere, da quanto potete spendere, ma trovate davvero tantissime alternative e sono davvero un qualcosa che secondo me se lo regalate verrà sicuramente apprezzato. Secondo del regalo profumi cofanetti con profumi che secondo me non passano mai di moda, né per le donne, né per gli uomini. Non so voi, ma io ho una bella doccia, una bella spazzaletta ai capelli, spruzzo il profumo già, mi sento molto meglio. Ci sono quest'anno davvero tantissimi cofanetti su tantissimi siti come Pinalli, su Sephora, potete trovarli su Notino. E Notino ve lo consiglio perché io ho acquistato quest'anno il regalo di Natale per mia madre, ed è arrivato super super veloce, tempo due giorni e qui da me solitamente nelle isole almeno quei tre giorni, quattro giorni passano. Notino è stato davvero molto veloce e soprattutto era imballato tutto veramente benissimo. Ce ne sono davvero davvero tantissimi quest'anno e ne trovate per tutte le tasche a partire dei 15 euro fino ad arrivare a prezzi 60-80 euro, quindi siete davvero con una scelta molto ampia davanti a voi. Si era staccato un pezzo di ciglia finta, e vabbè. Terza opzione, i libri. Raga, per me i libri sono un regalo senza tempo, veramente un regalo che non passerà mai di moda, è un regalo bellissimo. Anche qui se conoscete magari un hobby della persona alla quale andate a regalarlo, potete giocare facile perché è pieno di libri. Se ama la cucina, ci sono ad esempio i libri di Benedetta che tutti amano, oppure se si sta approcciando alla cucina vegana c'è il nuovo libro di Cucina Botanica che è una ragazza dolcissima che io ho conosciuto quest'anno su YouTube, che propone ricette vegane e ho iniziato anche a seguire qualche sua ricetta, devo dire che spiega davvero in maniera molto semplice e molto efficace. Oppure se come me è un amante della crescita personale, ho qualche libro che vi posso consigliare. Tra i miei preferiti sicuramente c'è Anthony Robbins come scrittore, questo l'ho letto quest'estate, si chiama Come ottenere il meglio da sé e dagli altri, è un libro di crescita personale che va elaborato, non si legge tutto ad un fiato, però è molto bello e vi fa riflettere. Oppure c'è questo che è Autostrada per la ricchezza di MJ DeMarco, un libro che parla di crescita personale e business. E un altro libro, se avete un amante della musica a cui regalarlo, che vi voglio suggerire è Ho sposato una rock star di Francesca Cavalli-Lafra, che è una speaker di Radio Freccia che ha una cultura musicale pazzesca e questo libro è davvero molto scorrevole da leggere, molto piacevole. Vengono raccontate le vite, i matrimoni delle rock star, ma il tutto viene visto da una prospettiva femminile, dalla prospettiva delle moglie. Sono sicura che con questo farete colpo. Quarta opzione, tazze. Non so voi, ma io amo le tazze, mi piacciono, ne ho tantissime, soprattutto perché la mattina non può mancare il cappuccino, la sera non può mancare la tisana, la notte prima di andare a dormire non può mancare la camomilla, quindi utilizzo tantissime tazze in una giornata e secondo me è un'idea molto carina, molto simpatica, potete magari anche andare a personalizzarla con l'iniziale del nome, il segno zodiacale, il nome per intero, oppure potete scrivere per la mia amica, per la mia mamma, insomma è un regalo carino che è anche utile, è un regalo carino e soprattutto utile, cosa importante in un regalo. Quinta opzione, skin care. Fanetti skin care, anche qui avete una scelta davvero molto molto ampia, ho visto da Sephora, tantissimi cofanetti di skin care, il bello del Natale è proprio questo, li compro anche io i cofanetti perché ti permettono ad un prezzo ridotto di provare i più prodotti, i cofanetti ti permettono di provare i più prodotti, magari in quel cofanetto 3-4 prodotti ti piacciono, altri 2 no e quindi puoi veder acquistarli in full size. Da Sephora, da Pinalli, anche qui davvero ci sono tantissime scelte, l'unica cosa ovviamente sulla quale vi consiglio di essere informati è la tipologia di pelle che ha quella persona, se è una pelle secca, se è una pelle mista, se è una pelle grassa, se è una pelle sensibile, cercate di reperire questa informazione e poi davvero ci sono tantissime box con la quale potete fare sicuramente un regalo gradito se è un amante come me della skin care. Sesta opzione, tè e tisane. L'ho detto prima, lo ripeto, io amo le tè, amo le tè, amo i tè, amo le tisane, d'inverno bevo costantemente tè e tisane perché berrei solo bevande calde. Ci sono i cofanetti ad esempio della Twinings che danno la possibilità di provare tanti tipi di tè differenti tipo arance e cannella, il tè alla vaniglia, l'english breakfast, quindi il tè nero, il tè verde. Sono anche i cofanetti della Pucca. La Pucca è un marchio biologico di tisane che vendono anche in bioprofumeria. Molto spesso li vendono anche associati a delle tazze, quindi magari è molto carino se lo trovate anche associare una tazza a una selezione di tisane, oppure eventualmente anche al, non mi viene, se sono le tisane non dentro il sacchetto, ci sono quelli rotondi, non mi viene il nome, che vengono utilizzati per mettere la tisana in immersione dentro l'acqua calda. Ora non mi viene il nome, sicuramente tra mezz'ora dirò ecco come si chiamava. Settima opzione, agenda. Io adoro le agende, io adoro scrivere i miei pensieri e le mie idee a mano, su carta e penna, sulla mia agenda. Attualmente ho questa agenda, be wild, be crazy, be you. Io ho davvero appunto tutto, appunto gli impegni, appunto le idee per il canale YouTube, per Instagram, appunto qualsiasi cosa. E questa è la mia memoria. Se io non avessi un'agenda, probabilmente sarei persa. Anche qui ce ne sono davvero per tutte le tasche, dalle moleskine che sono un po' più costose, un po' più pregiate, a quelle un po' più semplici, tipo la mia, ma comunque efficienti. E anche molto carine, perché io ho preso questa che praticamente vi faccio vedere, ha la taschina qua, poi ha dei segnalibri, con dei simpatici porcellini e animaletti, ha un calendario, ha anche degli adesivi, oltretutto se vogliamo, insomma, essere creativi con la nostra agenda, vedete tipo, qua ha tutti gli adesivi natalizi. Ottava opzione, qua ho pensato un po' a qualcosa di luxury da inserire, una federa o una mascherina di seta. La seta è un materiale pregiato e per questo viene utilizzato per creare degli accessori che devono stare a contatto con la nostra pelle, quindi studiate appunto per essere molto delicati, come federa e mascherina. Le federe di seta sono state studiate infatti per essere delicate durante il sonno, vanno a prevenire la formazione di rughe, di segni di invecchiamento e oltretutto sono anche molto utili per evitare quei fastidiosi stegni del cuscino la mattina che poi magari impiegano un po' d'ore ad andare via. La mascherina di seta ho sentito davvero dei pareri molto positivi perché va a prevenire la comparsa di brufoletti o imperfezioni rispetto alle mascherine normali, sicuramente perché il materiale molto più delicato e lo sfregamento è decisamente minore, cioè lo sfregamento c'è ugualmente, però l'attrito che c'è sulla pelle è decisamente molto molto meno aggressivo rispetto a quello di una mascherina chirurgica. Sicuramente queste sono due idee molto sfiziose che potete fare ad un amante della skin care, della pelle, alla vostra mamma, insomma è un regalo molto originale, utile, soprattutto che sicuramente verrà apprezzato. Potete regalarlo anche al vostro papà o al vostro ragazzo. Non ha idea regalo un portagioie, ecco un portagioie non intendo quelle che non abbiamo avuto nel 2020 ma veramente un porta accessori. Io ne ho acquistato uno che mi aiuta ad essere ordinata. Ve lo mostro qui, questo è in vellutino di questo rosa antico e all'interno è fatto in questo modo con lo specchio e come vedete io metto tutti i miei accessori all'interno, orecchini, lo tengo qua nello studio in maniera tale che quando finisco di registrare vado a riporre tutto all'interno e quando devo indossare degli accessori ho tutto qui a portata di mano. Mi sembra un'idea molto carina, questo è super economico, l'ho pagato 10 euro quindi davvero trovate delle cose molto carine anche a dei prezzi ridotti e anche questo vi assicuro, vi assicuro che è super utile. E ultima opzione, decima opzione, ma non per importanza, anzi ma l'ho voluta lasciare per ultimo, un bel regalo makeup. Anche qui ci sono davvero tantissime alternative, cofanetti, palette, ci sono tantissimi prodotti che potete regalare. Da solo a voi scegliere quello che pensate possa essere più adatto alla persona alla quale date regalarlo. Se è una persona che tende ad indossare molti rossetti, sicuramente un cofanetto con una selezione magari di rossetti tipo Sherlock Tilbury ha fatto due set molto belli per le labbra con quattro rossetti di questo tipo, vi faccio vedere, però in mini size, i rossetti di Sherlock Tilbury sono magnifici. Anche sul sito di Nabla ho visto che ci sono dei bundle veramente molto carini con la nuova collezione, insomma sul makeup davvero c'è modo di sbizzarrirsi e trovare tantissime alternative per tutte le tasche. Vi consiglio di guardare su Sephora, su Look Fantastic che ci sono sempre degli sconti pazzeschi, su Pinalli, davvero avete tantissime alternative, sta solo a voi essere creativi e scegliere il regalo che più volete fare con il cuore. Bene raga siamo arrivati alla conclusione di questo video, io spero tantissimo che i miei consigli possano esservi utile, fatemi sapere cosa ne pensate, se queste idee il regalo vi piacciono, se avreste piacere di ricevere uno di questi regali. Vi ringrazio se siete arrivati alla conclusione di questo video, vi ricordo se volete supportarmi, se ne avete il piacere, per me è un piacere davvero immenso avervi qui a far parte di questa bellissima community che ogni giorno cresce sempre di più e sono davvero molto orgogliosa di tutto ciò. Quello che dovete fare per supportarmi è iscrivervi al mio canale YouTube e lasciare un bel like sotto questo video. Io vi ringrazio per essere stati qui insieme a me, per avermi tenuto compagnia, spero di esserlo stato anche io per voi, spero di rivedervi anche nel prossimo video e nel mentre vi mando un grosso, grossissimo bacio. See you soon!